Ed eccoci di nuovo qua su Fumetterino Nere e questo sarà un video che farà parte della serie tutta dedicata alla chiusura di fine anno 2020, un anno certamente complicato per tutti quanti noi, ma che innanzitutto ha visto nascere questo canale su YouTube e inoltre è stato un anno ricco di soddisfazioni dal punto di vista mio, personale, come lettore. Benissimo, questo video sarà diviso in due diverse top. In una vi dirò una top 5 delle letture che ho fatto nel corso del 2020 e che riguardano serie che hanno iniziato la loro pubblicazione ormai anni fa. Mentre ci sarà poi una top 4 nuove opere, quindi serie che hanno iniziato la loro serializzazione o che si sono proprio concluse nel 2020, però ovviamente faccio riferimento all'anno di pubblicazione in Italia e non all'anno di pubblicazione giapponese. Benissimo, quindi partiamo con la prima che è la top 5 delle serie ongoing, diciamo così, e che hanno visto la pubblicazione in Italia di qualche volume nell'arco del 2020. Benissimo, sul quinto gradino di questo podio allargato troviamo Beastars di Paru Itagaki. Qui fra le mie mani ho il numero 1, questo è la variant che aveva il prezzo di 9,90€, mentre tutti gli altri volumi li potete trovare a 6,50€ prezzo di copertina dei primi numeri e poi dopo è stato aumentato a 7€, se non mi sbaglio. Quindi adesso tutti i numeri che escono costano 7€ e poi ho visto che sono state fatte anche numerose ristampe. A questa serie ho dedicato ormai due video, due o tre video, e quindi vi rimando a quelli per un'argomentazione un po' più dettagliata di quello che è Beastars e l'opera di Paru Itagaki. Certo è che nel 2020 sono usciti i numeri dal 10 al 16, se non mi sbaglio, forse è uscito anche 17 ma a me non è arrivato, arriverà nel 2021, e è una serie che sarà completa con 22 volumi, quindi ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione e molto probabilmente Planet chiuderà questa serie proprio nel 2021. È una shonen pubblicato da Akita Shoten in Giappone sulla rivista Shukan Shonen Champion, mi pare, Shonen Magazine, e quindi sicuramente fa parte di Akita Shoten che è una casa elettrice che ha tantissimi anni alle proprie spalle, però ormai ha un ruolo secondario rispetto a Kodansha, Shogakuka e Shuesha sicuramente, soprattutto per quanto riguarda gli shonen. E invece questo qui è veramente uno degli shonen migliori che io abbia letto negli ultimi anni. Questo senza ombra di dubbio è sicuramente un approccio diverso rispetto ai classici Battle Shonen di Weekly Shonen Jump, è un approccio molto più slice of life, con anche tinte sentimentali, drammatiche, però anche action, quindi è un mix di tanti tanti generi e che trasmette appunto di conseguenza emozioni completamente diverse di numero in numero. Come vi ho detto ampiamente ci sono delle scelte che ha fatto l'autrice lungo l'arco di questa storia che assolutamente io non condivido, che non mi sono piaciute, ma comunque sono così infervorato perché mi appassiona altrettanto questa serie ed è per questo che poi un po' mi agito davanti a queste scelte dell'autrice. Quindi diciamo innanzitutto sono curioso di leggere le restanti opere che pubblicherà Private Manga e anche quello che non è stato ancora annunciato e che l'autrice sta iniziando proprio in questo momento che dovrebbe chiamarsi Bota Bota, una cosa del genere, insomma una nuova sua serie. Quindi non vedo l'ora di proseguire, comparo Itagaki perché mi sta veramente comunque piacendo e allo stesso modo lo sta facendo Beastars. In questo mondo composto da tutti gli animali antropomorfi, uno serie di disegno che si evolve nel tempo, un mistero di fondo che man mano viene svelato che riguarda proprio questa alpaca, è un'alpa che già mi sono dimenticato, comunque mi pare proprio di sì, che viene uccisa e quindi il nostro protagonista che è Legoshi, questo lupo, tenta di trovare l'assassino. Uno stile, come vi dicevo, che sicuramente a molti non piacerà, soprattutto all'inizio, ma come vi dico, col successo sicuramente il disegno si è anche evoluto e probabilmente c'è stato anche un maggiore sopporto da parte di assistenti, insomma secondo me qui è molto sgraziato anche se a suo modo interessante e originale ma man mano che va avanti secondo me risulta essere apprezzabile anche da un pubblico sempre più ampio. Insomma vi rimando ai video che riguardano Beastars ma comunque serie ultra 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 consigliata. Un'altra pubblicazione che mi sta piacendo molto da quando io ho aperto questo canale vi ho solo parlato bene di quest'opera e si tratta di una delle opere più famose degli ultimi 20-30 anni e stiamo parlando di One Piece in questo caso ho fra le mani il numero 95 a prezzo di 4,30 per Star Comics quindi da Planet Manga siamo passati a Star Comics allora cosa vi posso dire? nel 2020 sono stati pubblicati 3-4 numeri e quindi se non mi sbaglio si tratta di questo numero 95 poi ho letto il 96 e poi secondo me anche il 94 e il 93 tutti nel 2020 e ovviamente sempre Shonen Shueisha, Weekly Shonen Jump uno dei manga di punta della rivista è sicuramente il manga più importante degli ultimi 20 anni della rivista e cosa vi posso dire? che nonostante io sia stato sempre molto critico nei confronti di quest'opera questo sicuramente veniamo anche ci sono stati periodi di 20-30 numeri dove ho vacillato dove pensavo di abbandonare la serie però adesso gli ultimi 10 numeri gli ultimi anche tipo dalla fine dei numeri 70 quindi 78 in poi mi ricordo io ho trovato le giornate molto 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 interessanti sempre con alti e bassi ma diciamo decisamente meglio rispetto ai 20-30 numeri precedenti in questo caso dei numeri dal 93 al 96 sono stati molto molto belli ambientati nel paese di Va l'ultimo colletto è tutto il flashback che riguarda che riguarda quello di cui non mi ricordo adesso il nome ma comunque è stato ultra 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 interessante e si vede che l'autore Oda sta andando verso la conclusione di questa serie secondo me conclusione che vista la moltitudine di parentesi lasciate aperte e di storia ancora da raccontare sicuramente arriverà fra 25-30 numeri cioè più o meno come aveva detto lui circa sul 120esimo volume però è sicuramente si assaggia sempre di più si entra sempre di più nel vivo nella ciccia del discorso e questo aumenta l'adrenalina aumenta l'interesse finalmente si scoprono alcuni misteri e niente io mi sto divertendo come come ultimamente mi stava capitando ma come per tanto tempo non mi sono divertito quindi non posso non inserire One Piece con Oden era Oden il tipo non posso non inserire il One Piece con i numeri da 93 a 96 all'interno di questa di questa top delle serie ongoing quindi veramente veramente molto molto interessante One Piece con gli ultimi suoi numeri poi un'altra serie che sta proseguendo è l'immortale di Roaki Samura in questo caso uno stile di disegno completamente diverso rispetto ovviamente a quello di Eiichiro Oda e ovviamente anche molto migliore secondo me e in questo caso finalmente dopo due shonen passiamo a un seinen seinen è pubblicato sulla rivista Afternoon di Kodansha e questa ovviamente è la riproposizione che Planet Manga ha fatto a prezzo di 14,90€ e contiene due volumi delle vecchie edizioni e due volumi in uno quindi quindi alla fine 7 euro 7,50€ a volume diciamo e quindi in linea con i prezzi standard che sta Planet Manga proponendo in questi ultimi periodi per questi autori abbastanza conosciuti e quindi ci facciamo andare bene diciamo questa nuova questa nuova edizione 14,90€ disegni veramente clamorosi come si può notare sin dalle copertine ma devo dire che veramente anche all'interno siamo su livelli altissimi io in realtà sono fermo alla lettura del quinto numero cioè ho letto il quinto numero poi che cosa ho fatto ho fatto attendere un po' di tempo ho aspettato un po' di tempo anche perché mi sembra che in mezzo ci sia stato il lockdown ho dato in prestito i volumi che ho già letto a alcuni amici e adesso mi sono reso conto che prima di andare avanti dovrei ripassare qualcosa e qui adesso sono un po' in stallo ma comunque riprenderò e devo dirvi che l'inizio non mi aveva chissà quanto convinto i primi i primi volume e mezzo i primi due volumi poi dopo è stato tutto un crescendo un crescendo e quindi questo cosa vuol dire che avendo letto solamente i primi cinque numeri è un giudizio parziale probabilmente se avessi letto anche tutti gli altri numeri mi pare che siamo arrivati al dodicesimo sarebbe stato anche più alto in classifica comunque ottimo l'immortale di Hiroaki Samura non vedo l'ora di proseguirlo ho dedicato un video una puntata del podcast anche a questa lettura alla lettura dei primi cinque numeri e in effetti valeva veramente la pena recuperare quest'opera probabilmente faccio vedere anche qualcos'altro uno stile meraviglioso da parte di Samura devo dire meraviglioso e questo è quindi il gradino numero tre del podio quindi medaglia di bronzo diciamo così per l'immortale di Hiroaki Samura al secondo posto invece metto tracce di sangue di Shuzo Oshimi in questo caso ho fra le mani il numero uno che costa sette euro sempre per Planet Manga che quindi si aggiudica per ora tre posti su quattro e questa opera di Shuzo Oshimi a me sta piacendo in modo clamoroso sinceramente nel 2020 sono usciti dal quinto al settimo numero costa sette euro come ho già detto è ancora in corso in Giappone il quarto numero fra l'altro era uscito a dicembre del 2019 e io sicuramente l'ho letto quindi nel 2020 è un Seinen Planet Manga pubblicato sulla rivista di Big Comic Superior di Shogakukan e quindi una rivista importantissima sempre per i Seinen Manga e sono meramente molto combattuto per il momento se considerare tracce di sangue superiore anche ai fiori del male sono molto molto combattuto di certo mi piace di più rispetto a Dentro Mari mi piace di più rispetto a Happiness e ovviamente mi piace molto più rispetto a tutte le serie giovanili che Planet Manga ha pubblicato di Shuzo Oshimi quindi sinceramente consigliatissimo tracce di sangue ho dedicato più puntate anche a questa lettura e che è molto ansiogena si dice è molto drammatica però anche immersa nella vita quotidiana e non ha più quella ambientazione adolescenziale ecco prettamente adolescenziale come le altre sue opere qui c'è un gioco di sottile fra la madre e il ragazzino ragazzino che non è così piccolo all'interno della storia ma comunque c'è un rapporto malato fra genitore e figlio che viene raccontato attraverso i disegni meravigliosi di Iroaki Samura e qua vi mostro ad esempio le prime pagine a colori gli altri numeri mi pare non abbiano queste non hanno queste pagine a colori iniziali bellissimo bellissimo lo stile lo stile diciamo moderno di shuzo shimi in questo caso che sicuramente non potete trovare ad esempio nei fiori del male e questo è un bene o un male a seconda dei casi a seconda della vostra sensibilità e come stile moderno intendo proprio queste pagine dove lui divide in pochissime tavole le sue storie e ciò rende tutto quanto molto molto veloce molto una lettura a lampo forse non lampo come a volte è capitato anche con happiness forse neve di mezzo però diciamo ci sono pochi dialoghi poco testo vedete qua i baluni sono sempre delle parole molto molto delle frasi cortissime cortissime e questo rende la lettura molto veloce molto adrenalinica trasmette tutta l'attenzione di questo racconto e di questo rapporto malato fra i protagonisti è veramente una lettura secondo me splendida e non vedo l'ora di scoprire dove shuzo shimi vorrà andare a parare stupendo secondo me traccia di sangue di shuzo shimi poi la lettura migliore che ho fatto e che era ongoing diciamo che si è conclusa nel 2020 è stata io sono shingo di kazuo mezzo come ho avuto modo di raccontarvi diciamo che all'inizio con la lettura dei primi 3-4 numeri pensavo veramente a io sono shingo come una lettura una delle letture più belle in assoluto che io abbia mai fatto in tutta la mia vita ma poi dopo il finale non è stato secondo me allo stesso livello io sono shingo comunque mi è piaciuto tantissimo e non posso fare altro che consigliarvi questo volume edito da star comics in italia e pubblicato in giappone da shogakukan su big comic spirits quindi altro caposaldo del seinen manga 7 volumi al prezzo di 15 euro per la collana un mezzo collection che è poi proseguita con baptism san rei che mi è piaciuto anche quello tantissimo quindi ho dedicato una puntata abbastanza corposa a io sono shingo per fare un recap della situazione di quello che pensavo su quest'opera però nonostante tutti i difetti che anche lì ho elencato non riesco a mettere le altre letture sopra io sono shingo non ce la faccio perché questa è stata una lettura più totale più coinvolgente forse anche se poi mi ha deluso mi ha deluso in alcune parti dei finali comunque è stata una delusione tutta proporzionata al piacere dalla lettura che era a un livello esorbitante altissimo e quindi kazuo mezzo per me si è confermato anche con io sono shingo e non vedo l'ora di proseguire con questa collana e non posso fare altro che consigliarvi io sono shingo se state cercando una lettura un po' più thriller thriller non so se è proprio la descrizione giusta drammatica comunque non proprio horror no non è questo il caso però veramente eccezionale secondo me anche se appunto guardatevi sentitevi ascoltatevi la puntata che ho dedicato proprio a io sono shingo per scoprire un po' più a fondo quello che è il mio pensiero e così quindi abbiamo concluso con questa prima parte della top cioè la top di tutte le altre letture che ho fatto nel corso del 2020 che ho concluso nel corso del 2020 o che semplicemente fanno parte di serie che stanno proseguendo e che sono iniziate tantissimo tempo fa quindi il gradino più alto del podio a io sono shingo poi tracce di sangue di Kazumezu e di Shuzo Shimi poi l'immortale di Ruaki Samura quarto posto per One Piece di Heichiro Oda e quinto posto per Beastars di Paro Itagaki benissimo e quindi in questo caso ci troviamo di fronte a tre pubblicazioni Star Comics scusate due pubblicazioni Star Comics e tre pubblicazioni Planet Manga quindi non c'è J-pop e non ci sono anche gli altri editori non ci sono anche gli altri editori perché spesso portano pubblicazioni molto brevi e quindi che si iniziano e concludono nel corso di un anno solare ecco magari a cavallo fra vari anni ma comunque non è stato questo il caso inoltre The Need Showcase ad esempio ha avuto un po' un blocco durante il post lockdown ci sono stati tanti mesi di vuoto Cocconino non pubblica serie così tanto lunghe poteva rientrare in questa classifica Stop Ibaricun ma è una lettura che io purtroppo mi sono mi sono perso quindi niente per ora siamo messi così non vedo sinceramente fra letture che ho fatto volumi opere storie che possono incalzare questi posti fatemi sapere voi se avete letto alcune storie che ongoing che avete iniziato tanto tempo fa e che vi stanno piacendo ancora di più rispetto a queste qua e se magari una di queste non vi ha convinto appieno in realtà benissimo e veniamo ora invece alla top 4 delle letture che ho iniziato nel 2020 quindi sono tutte nuove opere per il mercato italiano magari che sono state pubblicate in Giappone anche tanto tempo fa ma comunque è la prima volta che arrivano in Italia e sono arrivate nel corso del 2020 e non sono tante le opere che ho iniziato nel corso del 2020 inoltre tante di queste opere magari non le ho neanche lette come avevo già raccontato Marginal Barbara di Motoaglio non le ho ancora lette la Fenice non l'ho presa in mano ancora non ho letto Banana Fish ancora non ho letto insomma un bel po' di cosine che sono state sicuramente protagoniste di questo 2020 non ho letto perché magari ho dato spazio a riletture o a opere che sono state pubblicate tanti anni fa e che ho recuperato solamente nell'arco del 2020 quindi sicuramente sono letture che io recupererò che farò nel corso del 2021 sperando di non lasciare indietro chissà cosa ad esempio anche lo squalificato di Furuya non l'ho riletto nella versione Omnibus mi manca Unico mi manca Seventeen di Baron Yoshimoto insomma ci sono un po' di cose che potrebbero probabilmente rientrare in questa top e che non ho ancora letto Battismo che ho già citato prima di Kazuo Mezu e ho letto solamente il primo numero e il secondo non mi è arrivato a dicembre quindi mi arriverà nel 2021 e non sono sentita di instirlo da nessuna parte perché non saprei bene giudicarlo anche se mi stava piacendo veramente tantissimo bene dette queste premesse partiamo quarto posto quarto posto per An Invitation from a Crab di Pampania e questa è un è un Giosei pubblicato da Star Comics per la nuova collana Pampania Works è il primo di cinque pubblicazioni che verrà arriveranno in Italia sempre di quest'autore di Pampania di cui in realtà non conosciamo il sesso il genere e mi ha sorpreso mi ha sorpreso tantissimo dedicherò infatti una puntata del podcast a queste letture quindi vi chiedo un attimo di pazientare intanto vi anticipo che è un Giosei pubblicato da Rakuen Le Paradis di Akusensha nel 2014 quindi ormai ha 6-7 anni alle sue spalle e Pampania e Pampania è un'attrice è un autore che all'inizio degli anni 2000 fino appunto al 2013 circa era conosciuta nel mondo del comizia di tutte quelle fiere dove gli autori indipendenti portano le loro opere i dojishi e in questo caso Pampania con An Invitation from a Crab ha avuto poi la fortuna di essere pubblicata da Akusensha e in realtà An Invitation from a Crab non è la sua prima opera pubblicata sia in Giappone ma lo è per noi nel mercato italico ecco fra l'altro Pampania con An Invitation from a Crab ci mostra uno stile di disegno che sicuramente può richiamare qualcosa che abbiamo già visto cioè ad esempio anche la semplicità del disegno del protagonista di Buonanotte Pompun di Asano come vedete infatti è molto molto stilizzato questa figura questa fanciulla che poi è la protagonista di tutte le storie contenute in questo volume e probabilmente anche nelle storie contenute nei volumi che pubblicherà a breve Star Comics e futuri che usciranno da qui fino a la prima metà del 2022 e An Invitation from a Crab è appunto una collezione di 19 storie di 19 capitoli dove questa giovane protagonista ha un'età non molto precisata anzi variabile all'interno delle storie perché a volte è una studentessa altre volte sembra più grande insomma è variabile per adattarsi diciamo alla storia che ci vuole raccontare Pampania e è disegnata in questo modo molto molto approssimativo stilizzato ma come potete vedere invece lo sfondo le ambientazioni sono urbane tipiche giapponesi di un'urbanizzazione molto densa molto asfessiante anche se vogliamo ma ambientazione ultra dettagliata fino a a volte all'inverosimile e alcune di queste alcune di queste visuali vengono poi trasformate piegate dall'emozione che prova che prova questa protagonista chissà se riesco a trovare qualche esempio in questo caso però ci sono veramente alcune scene dove anche qua sopra forse si può notare la maestosità di questi oggetti forse opprime vengono opprime appunto la protagonista e quindi vengono ancora queste figure più ingigantite insomma ci sono tante cose a dire secondo me su questo volume che è semplicemente una raccolta di storie di vita quotidiana di questa giovane protagonista con però un elemento fantastico un elemento surreale un elemento onirico ma soprattutto una comicità di fondo molto 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 intelligente secondo me quindi alla fine di questi racconti c'è sempre una svolta un piccolo effetto sorpresa o la scelta dell'autrice o dell'autore di prendere una direzione inaspettata che mi ha lasciato veramente tanto tanto gusto durante la lettura no questo non posso farvelo vedere perché è un po' e faceva fra l'altro parte della mia serie del mio capitolo preferito però vi posso sempre far vedere qualcos'altro sempre tratto da questo capitolo vediamo un po' eccolo qua questo è il capitolo invitation no innovation scusate innovation e ci sono capitoli che effettivamente mi fanno pensare mi fanno ragionare molto su determinati argomenti e trovare questi questi spunti di riflessione in capitoli così tanto brevi secondo me non è semplice e an invitation from a crab sinceramente ha superato le mie aspettative fra l'altro fra un capitolo e l'altro non voglio far vedere questa pagina ci sono anche questi piccoli testi dell'autrice o dell'autore in prosa dove appunto Pampagna ragiona fa alcuni pensieri e li lascia scritti qui all'interno di questo volume su i più svariati argomenti come in questo caso l'atmosfera successivamente il distacco e così via quindi argomenti molto vari molto anche boh particolari un po' astratti ecco e sinceramente i testi in prosa mi sono sembrati meno accattivanti meno riusciti rispetto invece ai singoli volumi vedete qua ecco beccato una bella pagina dove questa ambientazione urbana si piega in modo tale da sembrare ancora più asfissiante per la protagonista che è completamente un po' persa ed immersa all'interno di questa ambientazione insomma vi ne parlerò meglio sicuramente in futuro abbiate pazienza non ho idea di quando uscirà proverò a farlo uscire prima anche rispetto ad altri registrazioni che ho già fatto perché penso sia più attuale mentre le altre riguardano volumi usciti ormai tanto tempo fa benissimo ho perso forse un po' troppo tempo e forse non sono stato neanche tanto chiaro su Pampagna ma comunque ottima lettura terzo gradino del podio per Inyo Osano con le sue short stories questa è una raccolta pubblicata da Planet Manga a presto di 12,90 euro abbastanza corposa non so se c'è il numero di pagine no non c'è scritto ma comunque è bello grosso e raccoglie tutti dei capitoli brevi pubblicati da Inyo Osano su varie riviste di Shogakukan se non mi sbaglio fra il 2010 e il 2018 quindi veramente un arco di tempo molto molto ampio e ampio come poi lo stile all'interno di questo di questi racconti i generi che tratta perché sono veramente molto molto eterogenei e variegati e dimostra quanto lui sia veramente molto poliedrico come autore fantastico arriva dalla fantascienza a capitoli più nostalgici slice of life altri un po' più sperimentali il suo stile ovviamente quello sempre fotografico con l'aggiunta di questi suoi volti così tondeggianti che è solito appunto di tutte le sue le sue opere poi ci sono anche scene come questa che sono più come vedete un po' più strambe un po' più particolari e c'è veramente un po' di tutto qua dentro ed è forse un bel metodo per approcciarsi a Inyo Asano perché appunto si può assaggiare molta parte di quello che è Asano poi nelle sue opere un po' più corpose ed è stato secondo me un bellissimo metodo per continuare a leggere Asano che mi sta continuando a sorprendere perché io ho letto tutte le altre sue serie brevi i suoi volumi unici poi è uscito Reiraku mi è piaciuto tantissimo è stata una delle migliori letture del 2019 e poi è uscito il short stories e anche questo è stata una bellissima lettura quindi Inyo Asano nonostante se io abbia comunque la sticella posta molto molto in alto con lui riesce sempre a sorprendermi e probabilmente anche a rinnovarsi quindi è bellissimo poi io amo quelle sensazioni che lui poi richiama cioè le nostre sensazioni emozioni nostalgiche emozioni un po' più deprimenti ecco mi piace molto questa sua drammaticità e qui e qui ce le rivedo e qui mi ci rivedo e mi ci ritrovo quindi non posso fra l'altro che consigliarvi di recuperare questo volume unico a prezzo di 12 euro 90 per Planet Manga devo dire una bella edizione non mi posso sinceramente lamentare di questo volume ecco bene andiamo oltre secondo posto per J-pop con I Gatti del Louvre e Taiyo Matsumoto ho dedicato una puntata del podcast a questa lettura quindi vi invito di andarla a recuperare se volete sapere un po' di più su questa storia sulla trama e su quello che ho provato durante la lettura questi sono due cartonati a pezzo di 20 euro l'uno quindi un prezzo sicuramente non indifferente ma devo dire fattura eccezionale e inoltre sono a colori anche per questo costa un po' di più colori fatti da un artista francese vediamo se riesco a trovare subito i credits sì colore Isabelle Merle e peccato che non ci sia scritto il suo nome appunto nella copertina ma comunque Jacob ha deciso di pubblicare quest'opera in questo modo cioè nella versione a colori e secondo me hanno fatto bene perché fa veramente la sua sporca figura ed è stato un volume che io all'inizio avevo anche ignorato fra l'altro e poi invece ho deciso di recuperare e ho fatto bene perché Tario Mazzomoto mi è sempre piaciuto solamente che le storie ambientate a Louvre o comunque create in collaborazione con Louvre non mi avevano mai mai convinto anche quelle degli altri autori no e questa quindi questo mi aveva fatto un po' titubare anche per via del prezzo ma poi ho fatto benissimo a tornare sui miei passi e a approcciare questa lettura che poi essi è rivelata appunto una delle migliori fatte nel 2020 ottimo ottimo veramente i gatti del Louvre di Tario Mazzomoto editato appunto da J-pop e non so cos'altro dire vi recuperate il video che ho la puntata del podcast che ho dedicato a questa lettura eccezionale di Tario Mazzomoto penso che più dei gatti del Louvre mi siano piaciuti solamente Ping Pong e Sunny Go Go Monster e Tekken Kinkrit hanno sicuramente altre pretese sono sicuramente molto apprezzabili da altri punti di vista però alla fine con piacevolezza durante la lettura sicuramente i gatti del Louvre mi è piaciuto un po' di più un po' di più quindi eccezionale Tario Mazzomoto non vedo l'ora di andare avanti con anche Number 5 e tutte le altre pubblicazioni che spero J-pop ci porterà nei prossimi anni sempre di questo autore fenomenale secondo me e i gatti del Louvre era stato pubblicato fra l'altro su Big Comic Original di Shogakukan quindi anche qui siamo al top del manga Seinen e rimaniamo sempre fra i Seinen con Emily Delusion la serie più bella che ho letto che ho iniziato nel 2020 questi sono i primi tre volumi editi da Star Comics a prezzo di 6,90€ in questo formato un po' più grande rispetto al solito mi pare che sia un 15x21€ e sicuramente una scelta buona da parte di Star Comics anche perché comunque il prezzo rimane abbastanza contenuto 6,90€ va bene siamo abituati a pagare questa cifra per volumi anche più più bassi e quindi più piccoli quindi secondo me è stata comunque una buona scelta la vedo come un regalo ecco poi si può discutere certamente sul fatto che il disegno di Masakatsu Shiguro abbia bisogno di questo formato più grande oppure no e questo va bene sono opinioni e fra l'altro mi posso trovare anche abbastanza d'accordo ma comunque Emily Delusion è stata una enorme sorpresa un Seinen con diciamo con tanto mistero tanta tantissima avventura e quindi anche abbastanza una buona dose d'azione iniziato nel 2018 in Giappone è arrivato a 5 volumi ed è ancora in corso nel Sollevante da noi invece sono stati pubblicati solamente i primi 3 volumi e in Giappone è stato serializzato su Afternoon di Kodansha la stessa rivista ad esempio di L'Immortale di Hiroaki Samura e questo niente è stata veramente una lettura eccezionale ho dedicato una puntata anche a Heavenly Delusion alla lettura forse dei primi due numeri se non mi sbaglio e il terzo non è da meno sinceramente e è totale questa lettura perché è appassionante c'è un sacco di dosi di mistero c'è azione c'è divertimento una una buona dose di commedia comunque in mezzo alla drammaticità di questa ambientazione post apocalittica insomma tantissimi temi tantissimi stimoli durante questa lettura ma soprattutto è appassionante è accattivante mi ha preso come sinceramente non mi capitava da un po' di tempo e quindi si merita secondo me il primo posto di questa mia personale top 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 quattro delle letture nuove iniziate nel corso del 2020 e alcune di queste anche concluse purtroppo Star Comics ha deciso di iniziare la pubblicazione abbastanza presto e questo vuol dire che andremo sicuramente molto 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 a rilento con questa serie leggere in modo spezzettato Heavenly Delusion non è molto appagante è un po' penalizzante però insomma ce ne faremo una ragione vedrò a questo punto anche se continuare con la lettura o se saprò un po' trattenermi in modo tale da accumulare un po' di numeri per poi riprendere in modo un po' più corposo da dove ero rimasto quindi Heavenly Delusion è secondo me la lettura migliore che ho iniziato nel 2020 fatemi sapere voi qual è l'opera migliore quali sono le opere migliori iniziate nel 2020 e anche se ci sono delle serie appunto ongoing che hanno iniziato la loro serializzazione la loro pubblicazione in Italia tanto tempo fa e che stanno continuando in questo periodo e che vi sono piaciute tantissimo se invece una di queste letture non vi è piaciuta comunque segnalatemelo perché io ritengo che sia sempre interessante confrontarsi certo è che non vi consiglio così senza alcun limite le opere di cui vi ho parlato oggi ad esempio Pampania An Invitation from a Crabbe non è certamente consigliabile ad un pubblico chissà quanto ampio quindi andate copiti di piombo magari guardate ascoltate altri consigli anche quelli derivanti quelli che sono nei miei video che trovate nelle altre puntate del podcast perché appunto sono più approfonditi e possono darvi meglio l'idea di quello che potete trovare all'interno di queste pagine o comunque potete cercare anche opinioni altrui senza alcun problema non mi offendo fatemi sapere voi quindi cosa ne pensate e ci vediamo in una prossima puntata del podcast o comunque in un prossimo video su Fumetti ciao a presto ciao a presto